ok la pari in cima l'ho vista si rimane al cielo oddio te lo pensi prima che pezzo c'è a te al cielo no eh quanti fai c'è un altro devo dare uno solo mi ha un posto da due ah ma vedrai c'è anche quel lato i personaggi se si fa il giudino del riso si trova qui c'è un altro guarda ma ho là ma sai qui c'era anche fisico aspetta un attimo che sto parlando con la tizia che non sono uno schialista mi sta uccidendo? come? ah no mi sta cercando di uccidere me con una lama ascoltami o le dico potrebbe o di allearsi con me o di provare a uccidermi provare a uccidermi vieni a vedere scusa vieni a vedere eh l'unica cosa è che devi leggere tanto qui perchè loro non è che non tutte le cose le dialogano basta dico che può provare a uccidermi oh sono andato in combattimento con lei Dio buono divo ma scusa ma così dal niente sembri perita ma scusa lei ci hai parlato cosa hai detto io non ce l'ho parlato no lei mi ha ammazzato praticamente aspetta aspetta perché aspetta? mi ha ammazzato mi ha fatto in un turno ma l'ha azzeccato mi devo curare non ce la faccio da solo aspetta ad attaccarla aspetta a fare il turno fammi arrivare cioè mi ha attaccato così dal niente capito? non ci potrà fare niente stai arrivando stai arrivando stai arrivando quanta avete lasciato? eh tanta ma che fai laggiù? sei lontanuccio lì eh mi ha messo il combattimento qui vai turno tuo o l'avveleno altrimenti ho 8-9 danni 9-10 danni palla di fuoco e consumi una pergamena in questo caso vai vai devo cambiare anche un paio di cose nelle impostazioni poi dopo toccar a me doveva ammazzare se ci arrivo se ci arrivo forse ammazzare fantastico fuoriportata perché danno gliel'ho fatto fuoriportata fuoriportata è morto il fuoco amore mi dispiace ma lei mi ha attaccato dal coltello capito? ma fatti di strano minchia gli ho rubato un sacco di roba andiamo via vai ma abbiamo ammazzato 6.000 capito? oh è legato è stato attaccato o gli dicevo di allearsi con noi ormai è andata così eh? ormai no però cioè perché tanto poi si poteva scegliere chi tenere o meno mi pare sì eh gli devo dire di allearsi ma che se ne frega tanto non si porta hai bisogno di qualcosa te? c'ho coltellini no no io c'ho la che basta ah c'era già la pantalola mi dispiace capito? ma è stato attaccato oh qui c'è un altro due si sono ammazzati non avrei mai pensato tu e io il padre ha ammazzato una lucetta con una scena molto grande con una scena con una scena ogni scena con un dottore non c'è giustizia in questo ma quello che ti fai te stesso la dittimo ah ha ammazzato una lucetta quel bastardo ah non aveva rispetto per i morti 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 oh si è passato si è passato la mattina ma c'è qualcosa si è piaciuta una mano sull'interno se lei fosse qui mi diceva che questo plank è croccato chiesti per i morti 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 ma scusami lasciamo stare non mi senti male non mi senti male ma non mi senti male non mi senti male si lascia stare si lascia stare ci sono abbastanza sporgimento di sangue ah questa qui dice mi stava puntando la gadosso capito e poi ha degenerato tutto che ci devo fare che ci devo fare che ci devo fare che ci devo fare beh sicuramente ho portato ah volevo vedere se c'è un commerciante c'è la peperoncini lente di identificazione mi ricordo era utile ristorare ristorare ho l'abilità il pisano dei punti di salute per turno eh eh lo potrei prendere io e fare il mago curatore lo stregone curatore eh quella serve anche qua per usare le funzioni costa tanto però se vuoi aspetta eh ci ritrova poi lì? si che vuoi il coltellino ti serve a te? no no non è massa eh mi stanno arrivando anche in città piuttosto stesso faccio prendo una lente se viva mi pare la lente no? più là poi vabbè ci ritorno semmai dai ho la compro dimmi te se non ti è utile ma magari aspetta aspetta semplice costo qui sei te? sono in città eh ma che inveggio perché sei tua? no no io adesso qui città mi ti aspettavo te ho un sacco di ricette qui eh mh mh tutta una mezzogna? adesso qui c'è roba che c'è c'è ogni cosa che c'è costa più di averciò io di soldi vabbè 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 inizia così ma i suoi soldi sono sempre rari in questo genioio nella fase iniziale ma anche dopo non è come New World che ti risparma addosso in continuazione allora e si vabbò là è il Lord la c'erano due nemici se avevi fatto un sacco sassone ma con Gravin bisogna parlare ci vedete tu tu sei appena arrivato vero? è solo io ho una proposizione solo uno però pena di pena c'è un bastone magico lui eh ma eeeh ah qui si riesce senti si deve andare fuori dalla città a cercare i compagni però lui magari quando uno di noi non gioca lo può andare a fare si quando un altro divino riuscirà si si una voglia di farlo sicuramente no? si si di qua c'è due nemici eh l'avevo visto prima si 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 il puntino ecco ma sono così lì si si prova ma non li vedo comunque poi ti aspetta un attimo organizziamoci un secondo dove sono? ah l'ho visti intanto prendo questa via per andare a fare delle fiamme io monto sopra montiamo sopra ahia no vabbè si muoie no 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 proviamo si è lontano si può scappare anche volando mi pare ti ha anche tirato l'olio addosso boia sa che dura sta vera eh si si va giù che son tre si va giù proprio in agilità proprio eh scappiamo scappiamo si può scappare si 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 vai vieni via vieni via io spero di riuscirci ho sbagliato la strada nooo eh non lo vedevo da lì ma te sei sempre impantanato lì l'ulta arriva da lì però eh si muove no ma no perché c'è quell'altro se mi sa che ti sarei ingerentato buiato lì ma non è stata una grande mossa eh la parte che c'è una forziere lì io non c'ho nemmeno la voglia di mardelli guarda il cazzato ma da questa parte non ci si può andare ma mi sa che io sono già nascosto da loro eh o no vuoi mi sa che aia morto no non sei morto si sei morto ti faccio ammazzare anche io allora eh eh mi sa che ma te non vediamo che non vedi ora te quindi si si e se si muove cosa succede? ma penso che ma penso che sono nella città presumo ma ora si spia con la roba no fai attacchi normale magari se se l'ammazzi uno c'è l'esperienza comunque no non credo di riuscirci a ammazzarne uno c'hanno un sacco di vita lo vedi? che fai? ah mi sa che uno però si è dis... si è dis... ah no è impostato lì bene si blocca nove scenari che casino fanno? non ci arriva cazzo ah c'è anche il mezzo passo è gratuito hai visto? ah ah morto praticamente non spreco nulla eh pozione niente nooo perchè è attaccato per precioso? eh rischi di ammazzarlo eh se male mi ricordo che muoiono morto vai sono decisamente oltre le nostre possibilità mi ricarica la partita come host arrivederci